Poi vorrei rendere adotta l'aula dei contenuti delle intercettazioni perché se l'aula non si sa... Le tolgo la parola e invito i colleghi del Movimento 5 Stelle a rimuovere i cartelli. Chiedo che venga menzionata a verbale della seduta il comportamento scorretto e proprio una volta di più del gruppo Movimento 5 Stelle che prendo atto con rammarico che dimostra così tutta la consistenza della propria azione politica, ovvero la mera strumentalizzazione e lo dico consigliere Fiasconaro perché lei sa bene che questo argomento è stato discusso ieri nella seduta del capigruppo che voi avete inviato in maniera non corretta, prego gli addetti d'aula di rimuovere i cartelli che sono impropriamente esposti, grazie. Una volta di più quest'aula le iniziative di via, prego gli addetti d'aula di rimuovere i cartelli con censuro e del secondo livello e del secondo livello consentito al Presidente il comportamento dei consiglieri con detta Macchi, Mendi Carcanotti. Grazie Presidente, con questo progetto di legge della legge dell'ombravia la consigliera Carcanotti, l'ha invito da parlare da primi segretari, il consigliere segretario con il supporto di tutti e gli assistenti d'aula vi provvedete a loro parlare, la consigliera Carcanotti dall'aula, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.